Però Gualtiero, scusa, che confabulava con Gastone, sono preoccupato. Che cosa è successo? Di cosa stavate parlando? No, con Gastone niente. Io, Gastone, a parte che non possiamo parlare noi del risultato di Bologna-Cesena perché noi siamo troppo tifosi. Per noi vince il Cesena e basta. Se non vince il Cesena è un macello. No, è un macello. E ti dovevo invitare stasera, tu lo sai. No, tu non puoi dirmi di no. La mia è la via Crucis, quindi me... Ma cosa stai parlando? Scusate, per rispetto con i 10-12. Perché dobbiamo fare questa via Crucis da Montegiardino a Predattio. Io gli ho assicurato e garantito che proprio vicino al posto dove andiamo ci sono le via Crucis e ti invito anche il prete. La mia via Crucis è me che non è il tuo prete, è il comunista. Vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè.